Ora sulla stampa i giovani, i giovani sottovalutano i rischi a dirlo, il ministro Lamorgese, il ministro dell'interno, a settembre voto a casa per chi è in isolamento, controlli serrati a Ferragosto, appunto il governo accentua i controlli, risponde il ministro Lamorgese. I ragazzi viaggiano e giustamente cercano il divertimento, per questo rivolgo proprio a loro un appello forte che penso dovrebbe diventare patrimonio di tutte le famiglie affinché mantengano comportamenti responsabili. Ma chiede Francesco Grignetti quali indicazioni sono state date per far rispettare i divieti. I prefetti si sono già attivati per disporre anche a Ferragosto modalità di controllo più serrato nelle zone turistiche, nelle aree cittadine frequentate dai giovani, molti dei quali. Sottovalutano i rischi a cui si espongono, ecco la considerazione che facevamo a proposito delle parole di Bob Sinclair, i rischi a cui i giovani si espongono appunto e a cui espongono l'intera collettività evidentemente richiamati dal ministro Lamorgese. Ci sono regole ben precise da osservare a partire dal distanziamento sociale, l'uso della mascherina e al lavaggio ripetuto delle mani. Chiede allora Grignetti ma ci saranno problemi allora per le elezioni regionali a settembre per la campagna elettorale? Valgono le regole sul distanziamento sociale e sulla protezione individuale? Per i seggi abbiamo previsto numerose precauzioni, aree di attesa esterne, percorsi di ingresso e di uscita separati, distanziamento tra i componenti del seggio non inferiore al metro, rispetto della distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, uso obbligatorio della mascherina. Ecco, tutte queste misure per un dovere civico, come si usava a dire in altri tempi, quello del voto, altri problemi li vedremo tra poco, quelli che sta esaminando il governo da settimane per la ripresa delle elezioni con il nuovo anno scolastico e poi appunto le masse nelle discoteche, da qui evidentemente una certa contraddizione aperta.